Benvenuti ad un'altra novità del Napoli. Oggi porteremo informazioni importanti sulla conferenza stampa prima della sfida tra Napoli e Lecce. Quindi, cogli l'occasione per iscriverti se sei nuovo da queste parti. Nella sua conferenza stampa pre-partita, Baroni ha sottolineato l'importanza della perfezione e della tranquillità per la sua squadra per segnare punti contro il Napoli. Ha sottolineato che affrontare una squadra così forte non fa paura per loro e che giocheranno bene le loro carte. Il tecnico ha parlato anche degli allenamenti svolti nei giorni scorsi, ad eccezione di Askildsen, che durante la notte ha avuto un problema all'intestino tenue. Il Napoli, intanto, cerca il riscatto dopo la sconfitta contro il Milan e giocherà senza Ozyman. La squadra però punterà su Simeone e Raspadori, che potrebbero inserirsi a partita in corso. Il tecnico del Napoli ha commentato anche l'assenza di Ozyman, dicendo che per lui non avere un giocatore devastante come lui potrebbe creare qualche problema. Secondo me il Napoli deve lasciarsi alle spalle la sconfitta contro il Milan e concentrarsi sulle prossime partite. Inoltre, è importante per la squadra evitare problemi fisici per la prossima partita di Champions League. E tu tifoso? Approfitteresti di questa partita per far riposare alcuni giocatori importanti? Lascia i tuoi pensieri nei commenti qui sotto e non dimenticare di mettere mi piace a questo video. Restate sintonizzati, torneremo presto con altre notizie sul Napoli.